Io sono un grande fautore di una politica estereuropea più intensa, più capace, più influente, perché c'è bisogno di noi nel mondo e il mondo serve anche a noi. E vale ancora di più per la politica di difesa dell'Europa. Non sto parlando adesso di un esercito europeo, spesso me lo chiedono. Gli austriaci sono contrari ad un esercito europeo, per esempio, questo lo so, altri sono favorevoli. Insomma, non conta tanto l'esercito, perché questo è un progetto di lungo respiro. Quello che conta è che almeno gli eserciti che ci sono, la forza di difesa che c'è, sia messa al servizio di obiettivi comuni. Quindi far convergere le nostre forze anche nel campo della difesa. Gli americani, per esempio, è molto difficile che garantiranno per sempre la difesa dell'Europa. E non soltanto adesso perché è stato eletto Trump. Comunque illudersi che in eternità saremo protetti dagli americani è appunto un'illusione. Abbiamo bisogno anche di una centrale di comando comune a livello europeo, chiaramente che faccia capo alla Commissione europea.